Ciao e benvenuti in un nuovo video. Visto che abbiamo passato le prime settimane dell'anno a parlare di quello che è successo l'anno scorso, questo invece vuole essere un video che parla del futuro, del futuro del canale, visto che è anche il futuro delle mie letture. È una TBR, quindi una To Be Read, una lista di tutti i libri di fantascienza che voglio leggere il prossimo anno. Naturalmente non sarà mai una lista completa e come al solito deciderò di leggere libri che non sono nella lista e di non leggere libri nella lista. Ne sono quasi certo perché sono un lettore molto molto disordinato. Però quest'anno stavo cercando di impegnarmi e proprio per impegnarmi a leggere libri che voglio leggere da tanti anni ho deciso di stilare queste liste. Ce n'è già una sul canale, una TBR di tutte le saghe fantasy che voglio iniziare e continuare durante questo nuovo anno e questa invece segnerà la rotta per le letture di fantascienza. Ma iniziamo subito dicendo che, come molti di voi sapranno, ho comprato in blocco tutta la Cosmo Oro, una favolosa, fantastica, mitologica collana di fantascienza che comprendeva praticamente tutti i grandi autori di fantascienza usciti praticamente dall'inizio della storia della fantascienza fino più o meno agli anni 90. Ho messo la libreria con tutta la Cosmo Oro proprio in camera da letto e prima di iniziare a girare questo video mi sono messo là in contemplazione e ho scelto alcuni libri da cui iniziare a sfoltire quella gigantesca pila di libri. Questa, questa è la gioia dei miei occhi. Occhi che attualmente sono malati, ho un orzaiolo se ve lo stesse chiedendo. Comunque, questa, dicevamo, è la mia gioia. È tutta la Cosmo Oro e ogni giorno in realtà mi sveglio e vengo qua a guardare la quantità immane di libri che dovrò leggere prima o poi e che in realtà voglio leggere prima o poi. Sono venuto a prendere i libri per la TBR ed è anche tempo che io vi faccia una piccola confessione perché infatti ho comprato anche tutta la Cosmo Argento che sta dietro la Cosmo Oro che è l'altra collana di fantascienza dell'editrice Nord e quindi pescheremo anche da quella. Ho anche fatto un video book haul di tutti e 300 e passa i volumi della collana Argento ma purtroppo uno dei video che era tipo di un'ora si è corrotto e quindi dovrò rifarla da capo ed è per questo che non l'avete ancora vista sul canale. E sì, ho comprato anche tutta la Cosmo Argento come vi ha detto l'altro Michele. Iniziamo proprio dal libro scelto dalla collezione della Cosmo Argento. Il libro fa parte del ciclo della cultura di Ian Banks e come qualcuno di voi saprà ho già letto il primo romanzo della saga, so che i romanzi sono autoconclusivi, non c'è un ordine con cui proseguire e infatti ho scelto questo romanzo semplicemente perché mi interessava moltissimo la sua premessa. Infatti la guerra di Zakalue, Use of Weapons invece in originale, è una storia molto particolare. Infatti ha un prologo e un epilogo che vengono dopo la storia principale, la narrazione principale del romanzo e poi nel romanzo si alternano due linee narrative, la prima numerata con i numeri cardinali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e l'altra invece con i numeri romani, mentre la prima segue la storia di, controllo i nomi perché sono stranissimi, di Zietzma che è una donna che sta cercando l'altro protagonista della storia che invece è Zakalue che dà il titolo appunto alla versione italiana del libro. Comunque dicevo, Zietzma, questa donna, sta cercando Zakalue perché gli deve dare un compito. C'è in questo universo una sorta di impero centrale che è la cultura, questa sorta di utopia super avanzata con intelligenze artificiali che sono praticamente degli dèi e attorno a questo impero naturalmente ci sono propaggini diverse con razze e governi diversi dalla cultura e c'è in particolare un pianeta che si sta ribellando alla cultura. Zakalue dovrebbe essere la persona che ferma questa insurrezione, è una sorta di diplomatico generale, che utilizza appunto le arti della diplomezia, del sotterfugio, dello spionaggio ma anche quando deve quelle appunto della violenza e Zietzma ha appunto il compito di ritrovarlo perché nessuno sa dove sta e di affidargli questo compito. Mentre invece nella seconda linea narrativa, quella numerata con i numeri romani e numerata al contrario, vedremo invece la storia di Zakalue in ordine inverso, praticamente andando verso le origini del personaggio. Sospetto che in questa maniera scopriremo appunto le origini di Zakalue e un segreto all'interno della sua storia, altrimenti non avrebbe senso questo strano meccanismo. Comunque ripeto, anche la semplice struttura con cui è creato il romanzo fa sì che io lo voglia leggere davvero moltissimo. Il secondo romanzo che voglio leggere quest'anno invece è di Peter Watts e si intitola Stelle di Mare. La scelta di leggere Stelle di Mare è un pochino obbligata perché volevo tantissimo leggere romanzi di Peter Watts, ne ho sentito parlare moltissimo, è un biologo marino che ha scritto straordinari romanzi di fantascienza. Per la precisione, quello che mi interessava di più si chiama Blind Sight ma non è mai stato pubblicato in Italia e visto che di solito prima di approcciare in inglese un autore cerco almeno di leggere una cosa in traduzione per farmi un'idea di quanto complicato sarà quello di fronte a cui mi troverò in inglese, ho trovato che c'erano solamente due romanzi scritti da Watts tradotti in Italia. Uno è un libro legato alla saga di Crisis, i videogiochi, mentre invece il secondo è appunto Stelle di Mare che è il suo primo romanzo in assoluto e devo dire che non era un romanzo che stavo cercando ma chiaramente è il romanzo che fa per me perché racconta la storia di questa stazione sottomarina in cui vengono estratti carburanti, gas, roba del genere, ma la cosa interessante è che questa stazione sottomarina è così in profondità che le persone che effettivamente estraggono i materiali dal fondo oceanico devono essere modificati geneticamente per essere resi degli anfibi fondamentalmente. Non solo, queste persone hanno tutte un passato criminale, è praticamente il corrispettivo di una colonia penale in cui sei ai lavori forzati, quindi ambientazione sottomarina, modifiche genetiche al personale e lo stesso personale è composto da criminali. Cosa può andare storto? Devo dire che l'ho trovata una premessa molto affascinante e il fatto di sapere che Peter Watts è per l'appunto un biologo marino per formazione accademica fa sì che io non veda l'ora di leggere anche questo romanzo, non vedo l'ora di leggerli tutti, quindi lo ripeterò tutte le volte sappiatelo. E invece passiamo a un romanzo della mia grande libreria della Cosmo Oro. Il romanzo è di Connie Willis ed è L'anno del contagio che tra le altre cose nel 1993 vinse sia il premio Go che quello Nebula, che sono appunto i due premi più prestigiosi per la fantascienza. La storia parla di viaggi nel tempo e per la precisione racconta di un mondo molto vicino al nostro, il 2054 se non sbaglio, in cui viene scoperta la macchina del tempo, vengono scoperti i viaggi nel tempo e vengono utilizzati da degli accademici per studiare la storia. La protagonista dell'anno del contagio è una studiosa del Medioevo e, come ogni studioso di storia, sogna di tornare proprio a quell'epoca e attraverso i viaggi nel tempo effettivamente viene spedita nel 1300. Dovrebbe arrivare all'inizio del 1300 e invece per un errore di calcolo finisce nel 1348, cioè quando sta per scoppiare l'epidemia più terrificante della storia dell'umanità che è detta la Morte Nera e che è appunto questa terrificante epidemia di peste. Tra le altre cose la nostra protagonista quando arriva là ha una terribile influenza e scopriremo, visto che la storia si alterna tra presente e passato in cui è finita la protagonista, che anche nel suo presente c'è un'epidemia, un'epidemia di influenza che sta decimando la popolazione, quindi due momenti della storia, il passato e il presente, probabilmente un legame tra i due eventi, in cui c'è in corso una terrificante epidemia. Adoro i viaggi nel tempo, quindi anche questo, lo dico un'altra volta non vedo l'ora di leggerlo. Ogni tanto desidererei tantissimo avere due o tre cervelli per poter leggere più di un libro alla volta. Di questo libro ne abbiamo parlato nell'ultimo wrap up book haul ed è Picnic sul ciglio della strada o anche detto Stalker. La storia racconta di un luogo della terra in cui sono arrivati gli alieni e hanno lasciato, come in un picnic sul ciglio della strada, tutti gli avanzi se ne sono andati e hanno mollato tecnologia aliena in quel luogo, che viene ora denominato la zona. Gli Stalker sono una categoria di avventurieri ricercatori che entra nella zona, questo luogo pericolosissimo, perché immaginate appunto è una discarica aliena in cui non sai se quello che tocchi ti ucciderà o produrrà energia per sempre cambiando il mondo degli esseri umani. E dicevo il protagonista è proprio uno Stalker, cioè uno di questi ricercatori che si infila nella zona e ne estrae queste straordinarie tecnologie aliene. Anche qui ambientazione interessantissima. Come dicevo nel book haul voglio assolutamente dedicarmi alla letteratura di fantascienza russa perché la trovo estremamente interessante. E quindi Picnic sul ciglio della terra è un libro che voglio leggere moltissimo. Adoro la fantascienza perché nel grande calderone della fantascienza c'è di tutto. Abbiamo parlato di stazioni sottomarine, viaggi nel tempo, grandi culture aliene e in questo caso invece parliamo di un libro che è un po' a metà fra fantasy e fantascienza. La primavera di Heliconia di Brian Eldis è un romanzo che parla di un mondo, Heliconia appunto, in cui c'è in corso una glaciazione e siamo proprio alla fine della glaciazione. Sta per finire questa grande glaciazione. Il protagonista è un ragazzo che si vede strappare il padre durante una battuta di caccia in cui i due stanno cercando di portare sostentamento alla loro tribù di esseri umani e apprendere a rapire il padre è uno degli alieni della razza avversaria agli umani su questo pianeta. Ne scaturisce così una classica avventura da romanzo sci-fi fantasy in cui il protagonista deve andare alla ricerca del padre, avrà a che fare con culti misterici, con terribili creature, con gli alieni stessi che hanno rapito il padre. Non ho mai letto nulla di Brian Eldis ed erano molti anni che invece lo stavo un po' rincorrendo e visto che ho comprato come vi dicevo prima in blocco tutta la Cosmoro, ora ho il ciclo al completo di Heliconia e inizierò appunto con questo splendido primo romanzo che è anche una bellissima copertina di Michael Welland che sono quasi certo che non c'entri nulla con la storia nel senso che l'avranno presa da un altro romanzo e infilata così per sbaglio in questo. Succedeva molto spesso all'epoca. Lo so che sembro scemo ma mentre sto facendo questa tbr c'ho tipo una voglia infinita di aprire uno a caso di questi libri e iniziare a leggere quindi continuiamo andando più veloci possibili così posso iniziare a leggere. Parliamo di un'altra saga, un'altra saga di fantascienza formata da due romanzi nella versione originale e senza nessuna motivazione alcuna da quattro romanzi nella versione italiana. Mondadori decise di dividere arbitrariamente i due romanzi in due e la saga di cui sto parlando è Ilium e Olympos di Dan Simmons. Dan Simmons lo conoscete tutti, almeno tutti quelli che seguono questo canale perché è il creatore di Hyperion, una delle mie saga di fantascienza preferite in assoluto. È l'autore di The Terror, uno dei miei libri horror preferiti in assoluto e sto recuperando un po' tutto quello che c'è di Dan Simmons. È molto difficile trovare Simmons in traduzione italiana perché i suoi libri spariscono dal catalogo in un attimo. Di Ilium e Olympos ho i primi tre volumi, quindi mi manca solamente l'ultimo di Olympos. So che Urania dovrebbe ripubblicare finalmente l'opera, ma io inizierò appunto con questa versione cartonata che era molto carina. Allora, di cosa parla Ilium? Ilium è la storia di Thomas Hockenberry. Hockenberry, dannazione, non mi ricordo cosa ho mangiato a colazione ma ricordavo il nome del personaggio di un libro che non ho letto. Comunque Thomas Hockenberry è un insegnante universitario di storia ed è specializzato per la precisione nella guerra di Troia. Conosce tutti i segreti dell'Iliade. La storia parte quando Hockenberry si risveglia nel 1200 a.C., cioè durante il periodo in cui si è svolta appunto la guerra di Troia. Il professore universitario ha quindi la possibilità di assistere la guerra di Troia. Quello che è un po' più strano di quello che potrebbe essere un semplice viaggio nel tempo è che il professore scopre che gli esseri, le entità che li hanno portati, che hanno portato lui e altri studiosi sul pianeta Terra nel 1200 a.C. sono gli dei della Grecia. E gli dei della Grecia, Zeus, Atena e compagnia bella, non sono altro che entità con tecnologia incredibilmente avanzata, per seguire la teoria per cui se assistiamo a un fenomeno scientifico e non lo comprendiamo può essere molto simile alla magia, queste entità si stanno dando battaglia attraverso la guerra di Troia. E gli studiosi che sono chiamati dagli dei per cambiare le sorti della guerra giocano il ruolo di una sorta di arbitri, di controllori della contesa. Anche questa premessa incredibilmente affascinante, adoro l'Iliade, penso di essere uno dei pochi ragazzini che si è davvero letto l'Iliade Odissea quando era un liceale senza essere costretto. Devo anche essere sincero, molto probabilmente l'ho preferita decisamente alla lettura integrale della Divina Commedia che invece mi ha imposto la scuola. E trovo naturalmente molto affascinante questa idea del fatto che gli dei sono in realtà appunto entità incredibilmente avanzate tecnologicamente e non Deia per l'appunto. Che ve lo dico a fare, non vedo l'ora di iniziare Ilium. Ultimo romanzo scelto dalla libreria della Cosmoro è Universo incostante di Vernon Vinge. Vernon Vinge, grandissimo autore di cui ho letto unicamente un racconto che è considerato una sorta di pietra fondante del cyberpunk, mentre invece con Universo incostante ci troviamo più di fronte a quello che è una space opera. L'universo creato da Vinge è una sorta di cipolla, è presente formato da varie fasce divise dall'avanzamento tecnologico. Non è chiaro se questa divisione avviene per un fenomeno naturale oppure c'è stata la mano di qualcuno, di qualcosa che ha diviso l'universo. Comunque c'è un primo nucleo che è fatto da quello che viene definito le profondità insondabili, in cui non si può utilizzare il viaggio iperluce, quindi non ci si può muovere velocemente. L'avanzamento tecnologico è limitato, non ci sono intelligenze artificiali. Poi c'è la zona lenta in cui si trovano gli esseri umani, che è quella in cui non si possono ancora utilizzare velocità superiori alla luce, quindi i viaggi vengono fatti con queste gigantesche navi colonia, con i coloni addormentati nelle navi. C'è un alto livello di automazione, le intelligenze artificiali sono ancora quelle dei computer. Dopodiché la zona superiore è quella chiamata l'esterno, in cui c'è una tecnologia avanzatissima, intelligenze artificiali che sono arrivate quasi a livello di divinità. E nell'ultima parte di questa gigantesca cipolla c'è il trascendente, cioè il luogo dove dimorano entità così potenti da essere vere e proprie divinità. La storia inizia quando una nave terrestre passa dalla zona lenta ed esplora la parte più esterna del guscio superiore, cioè l'esterno, in cui però purtroppo risveglia un'intelligenza artificiale così potente e così crudele da sembrare un antico dio in cerca di vendetta. Naturalmente questo metterà a rischio l'umanità intera. Qui ci troviamo di fronte a una costruzione a un world building davvero molto affascinante e lo ripetiamo perché ormai è un mantra, non vedo l'ora di leggere Universo incostante di Vernon Binge. Chiudiamo con un autore di cui voleva leggere da tanto le opere. Per fortuna Mondadori ha raccolto la trilogia originale di Rivelazione di Alistair Reynolds in questo tomo gigante. Qual è la premessa dietro Rivelazione e perché lo voglio leggere tantissimo come tutto il resto? Rivelazione si snoda su tre archi narrativi. Nel primo il protagonista è Dan Silvest, un archeologo spaziale. È su un pianeta alieno e sta studiando i resti della civiltà degli Amarantini. Questa civiltà aliena incredibilmente avanzata tecnologicamente che però ha incontrato la sua fine quando la stella del loro pianeta li ha bruciati praticamente. Dall'altra parte c'è l'equipaggio della nostalgia dell'infinito, questa nave, che si sta muovendo alla ricerca proprio dell'archeologo perché Silvest potrebbe avere le informazioni di cui ha bisogno la nave per salvare il capitano infettato da uno strano virus. Infine la terza linea narrativa è dedicata ad Anna Curie che è un killer, un'assassina che è stata assoldata per uccidere, indovinate, Silvest l'archeologo. Quindi queste tre linee narrative si intrecciano. Partiamo con il dire che un archeologo spaziale tra i mondi che investica una razza aliena super tecnologica e destinta è già un inizio pazzesco quindi potete immaginare che non vedo l'ora di leggere Alistair Reynolds rivelazione. E dopo aver ripetuto per sette volte di seguito che non vedo l'ora di leggere qualcosa vi lascio e me ne vado a leggere per l'appunto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così potete lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Noi se tutto va bene ci vediamo in un prossimo video il prossimo venerdì. Ciao! Grazie!